Non voglio fare quello che rompe i coglioni sul fatto dell'inglese, non inglese però. Adesso succede magari che c'è un fenomeno di uno che fa un profilo falso, prendendo le sembianze di un'altra persona, mette le sue foto e diventa uno che non è quello ma si comporta come se fosse quello per fare delle truffe amorose, per fare queste cose, per ingannare qualcuno. Cioè diciamo un profilo, non uso account anche se si direbbe account, ma profilo va benissimo, sto bene lo stesso, guardatemi, sto bene, mi sono sentito male a non usare account. Allora questo fenomeno però, appunto di uno che prende un'altra persona e diventa quella, cioè fa uno scambio di persone sul social, diventa il fenomeno catfishing. Cioè perché? Cioè se è successo in America e l'hanno chiamato così, da noi non era mai successo, noi non eravamo capaci di inventarci un termine anche noi per chiamare questo fenomeno tipo truffa amorosa, scambio di persona, non lo so, ci sarà pure, abbiamo una lingua ricchissima. Ma no, dobbiamo chiamarlo il fenomeno del catfishing, sì perché così, ecco così vuol dire che siamo dei poveretti, dei poveretti da smerigliare non più nelle chiappe ma direttamente nei maroni. Vim!